La seconda semifinale, Coppa Italia Xen, torneo femminile, edizione 2009. Siamo sugli impianti di Marto Rano, le due squadre in campo, outsider, contro ASD Boomerang. Non importa. E che buona memoria. Non ci sono i gol. La figlia è un foglio di carta bianca. Sì, chiara, chiara. Sì? Vamos. Sì? 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 Sì, rettifica la squadra. Non è outsider, ma è granzette. È nella prima semifinale che invece si scontravano le outsider contro il last minute. tra un'ora la finale, tra la vincente di questa semifinale e la seconda semifinale. Gloria Reca, calma. Ma tutti con là, ma tutti con là. Non 줘 ogni giorno, anche qualcosa che è... Bene, è vero il zwy io? Sì, non lo so, Mauro Sara. Cosa fa l'acqua dove, lì, sulla ovo la bozza a mano? Capiva? Chi è? Chi è? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.